Eccoci, siamo online. Ciao Monica. Ciao Anna Lisa, felice. Sono Monica Tarda, collaboro con Anime Erranti. Nella vita, diciamo, indoor, sono una psicoterapeuta, quindi, diciamo, mi sono specializzata nella terapia della gestalti, ho seguito poi un percorso un po' più approfondito con un grande maestro che si chiama Claudio Naranco, quindi all'interno di un percorso che si chiama SAT e in questo percorso, sia a partire dalla scuola di specializzazione, sia poi dopo nei SAT, e diciamo, quello è un discorso molto lungo, magari ne parleremo un'altra volta perché adesso esula abbastanza dall'argomento, però per arrivare poi alla meditazione, perché la meditazione è come si chiama adesso, diciamo, mindfulness, perché all'interno del mio percorso di specializzazione l'idea è quella di approcciarsi alla persona non solo in termini di cura, nel senso che la persona ha un problema, una malattia, e quindi io guarisco qualcosa che non va, qualcosa che si è rotto, ma una cura che vuol dire prendersi cura, cioè un po' come se noi ci prendessimo cura di una pianta, il prendersi cura che è quello dell'accunire, non è che una mamma con i figli si prende cura perché i figli sono rotti e vanno aggiustati, oppure tra di noi, no, gli amici, con le persone familiari, con le persone a cui vogliamo bene, il prendersi cura è un atto di amore fondamentalmente, è un atto positivo e buono per tutti, ma che non ha a che fare con qualcosa che non funziona. E quindi all'interno delle pratiche della terapia entra anche la meditazione come una cura dell'anima e quindi anche una cura della mente, visto che psiché significava anima. Invece ci prendiamo cura anche del corpo perché poi le facciamo anche a un corpo. Esatto, esatto. Poi, siccome non mi bastava più rimanere tra quattro mura, cominciavo a sentire questa cosa che appunto c'era bisogno di un collegamento altro e che l'uomo comincia a stare bene quando è in un contatto con la natura, quando se ne distanzia comincia a essere molto nevrotico in realtà, perché perde proprio questo contatto con il fluire naturale degli eventi e gli vengono anche molte più paure, volevo andare fuori, volevo praticare fuori. Ho cercato, ho tampinato varie guide per riuscire a... perché io non sono una guida, quindi non sapevo portare la gente fuori nelle escursioni, quindi ho tampinato vari amici che facevano le guide, ma nessuno mi ha dato credito. Poi mi sono infilata in un'escursione di uno di loro, obbligando tutto il gruppo a meditare, non so se poi mi hanno odiato, però nel frattempo c'eri tu, quindi c'è stato questo innamoramento reciproco e ci siamo guardate e abbiamo detto perché non facciamo qualcosa insieme e da lì abbiamo cominciato a portare la gente fuori. Il tuo amore per la natura, quindi ci ha portato poi a conoscerci e ti ha portato a intraprendere appunto il cammino primitivo del quale parleremo oggi. Che cos'è questo cammino primitivo, Monica? Ok, quindi diciamo l'amore della natura è chiaramente prima di... è iniziato prima di tutto il resto, quindi prima della psicoterapia, prima della meditazione, prima dello studio, prima di qualsiasi cosa, perché io vengo da un paesino piccolino in provincia di Bergamo e io andavo a giocare nei boschi quando ero piccolina, prendevo la bicicletta, facevo razzia nella stalla della nonna e prendevo i coniglietti piccoli appena nati, li mettevo nel cestino della bici e giravo nei boschi. Quindi poi da grande non potevo che insomma mantenere questa passione, fino a che poi per un po', per vari motivi diciamo mi ero un po' fermata, un po' la vita di città, un po' il lavoro, le cose, quindi mi ero abbastanza mi ero abbastanza fermata, ero diventata un po' più sedentaria e cittadina, finché non ho cominciato a sentire di nuovo l'irrequietezza che poi ti prende quando ti stacchi dalle cose che ami. Ho deciso di partire e fare il cammino di Santiago nel 2016, quindi qualche anno fa. Io per motivi di lavoro potevo partire soltanto ad agosto, agosto in Spagna fa caldissimo, io non tollero molto bene il caldo e quindi ho cercato informazioni su uno dei cammini, ho scoperto lì perché io anche io pensavo che ci fosse un unico cammino, invece poi ho scoperto che ce ne sono tanti e mi hanno consigliato di dare un'occhiata al cammino primitivo perché tra i vari cammini è quello che si svolge a un'altitudine maggiore e siamo tra i 500 metri di altitudine fino al punto più alto che è circa 1200, quindi è parecchio in alto ed è tutto un altipiano, quindi effettivamente benché sia il periodo che l'ho fatto era agosto, fine metà agosto, quindi proprio il periodo più caldo, erano 13 gradi tipo la mattina e la sera e di giorno sicuramente se arrivavano a temperature più alte perché il sole è abbastanza forte però comunque in un range assolutamente non comparabile alle mesietas quindi si stava bene. Il cammino primitivo è un cammino che si snoda tra l'Asturia e la Galizia principalmente nell'Asturia quindi molto a nord della Spagna non così a nord come il cammino del nord che è un po' più su ancora che quello invece costeggia proprio tutta la costa da non mi ricordo da dove parte comunque da su da Irun che dicono sia molto piovoso che dicono sia molto piovoso i pellegrini che ho incontrato perché in alcuni punti per esempio Oviedo che è il punto di partenza del primitivo è anche una delle tappe del cammino del nord quindi la prima notte l'ho fatto in un ostello pubblico e c'erano dei pellegrini che venivano dal cammino del nord e quindi insomma ne abbiamo parlato abbastanza lì in quel momento non è che hanno riportato grandi problematiche riguardo alla pioggia hanno più che altro riportato problematiche riguardo all'affollamento soprattutto nei centri urbani cosa che nel cammino primitivo non trovi o almeno non trovavi fino a qualche anno fa perché è uno dei meno frequentati non è il meno frequentato perché credo quello sia il cammino della plata però è comunque non battutissimo anche perché rispetto agli altri non è un cammino pianeggiante è tutto sull'alto piano e quindi tutto un salire scendere salire scendere salire scendere quindi abbastanza impegnativo proprio a livello di di trekking diciamo di resistenza fisica tant'è che appunto il cammino primitivo è proprio uno dei primi cammini uno dei più antichi ed è uno dei più impegnativi perché ha questi dislivelli continui quotidiani quindi ogni giorno si fa up and down up and down e bisogna avere una bella preparazione fisica che non serve nel cammino francese quanti chilometri è lungo il cammino quante tappe solite vengono consigliate nella guida e quante tappe invece hai fatto tu se hai seguito quelle o se le hai stravolte allora no in linea di massimo ho seguito le tappe consigliate forse qualcosina di meno perché nella guida che avevo letto in realtà io non ho non ho acquistato una vera e propria guida mi sono un po' informata sui forum che giravano e sui vari blog che parlavano di pellegrinaggi più quando sono andata a recuperare la compostela anche lì trovando in realtà su internet il numero di telefono chiamando la curia gentilissima che mi hanno detto che avevano un paio di giorni dove poter andare a recuperare la compostela e lì c'erano in occasione della consegna della compostela c'erano altri pellegrini con cui ho parlato e mi hanno un poco raccontato perché poi la cosa bella secondo me al di là della guida è proprio il fatto di poter parlare con persone che anche loro un po' come si faceva prima di tutta questa cosa un po' come se fosse ancora una tradizione orale in cui tu incontri persone che hanno parlato con altre persone che magari già ci sono stati o che il loro amico la loro zia qualcuno già l'ha fatto e quindi comincia a scambiare un po' di cose e ti senti lì secondo me veramente un pellegrino nel senso che i pellegrini di un tempo non c'avevano le app le cartine le guide e quindi arrivavano sul posto chiedevano alla gente e da lì iniziavano a fare un'idea quindi io più o meno ho fatto così quanti chilometri sono sono è un po' strano perché su alcuni siti trovi 296 su altri ne trovi 320 l'idea che mi sono fatta io io più o meno quando ho calcolato i chilometri che ho fatto mi trovavo sui 320 siccome ci sono un paio di deviazioni lungo le tappe del cammino quindi puoi scegliere in un paio di punti puoi scegliere di allungarti a vedere una cosa oppure di seguire una si chiama la ruta d'hospital che sale in quel famoso passo che ti dicevo prima di 1200 metri mentre invece prima mentre invece poi ce n'è un'altra una via più bassa che non taglia il passo e qui non scavalla la montagna e quindi è una via sicuramente più breve e molto più facile quindi credo che dipende anche dalla deviazione che tu prendi ok quindi all'incirca fra i 300 e i 320 divisi in quante tappe allora io ho camminato in tutto 12 giorni si può fare anche in 11 in verità poi c'era gente che era allenatissima e si faceva 50 km al giorno io non non sono partita così così ambiziosa quindi più o meno diciamo facevo tra i 20 e i 30 km a seconda un po' delle tappe c'erano alcune tappe un po' più lunghe alcune tappe un po' più brevi i primi due giorni ho fatto delle tappe un po' più brevi anche per acclimatarmi diciamo dopodiché rodato che ce la facevo ho fatto qualche tappa un po' più lunga gli ultimi giorni perché a un certo punto il cammino primitivo si congiunge negli ultimi 100 km del cammino francese quindi degrada completamente la collina scendi dall'altipiano arrivi in totale pianura passi dalle dalle colline dai boschetti e dai pascoli delle mucche e arrivi alla strada e alla fiumana di gente e lì c'hai effettivamente il la sciocca sì dopo 10-12 giorni tu e la natura stai un po' così e lì in realtà me la sono presa un po' più calma ho spezzato in due tappe gli ultimi tre giorni ho spezzato in ho fatto delle tappe più brevi lì mi sono preso un giorno in più per assaporarmi l'arrivo al proprio a Santiago hai incontrato molte persone molti pellegrini nella parte iniziale del cammino quella che predecedeva l'incontro con il francese no sì prima del cammino francese si incontra gente considera io l'ho fatta sicuramente in un'altissima stagione perché pieno agosto poi sono partita l'undici di agosto quindi prendeva completamente anche il ferragosto e nonostante questo il cammino primitivo rimaneva penso che rimanga ancora comunque tutto sommato molto molto tranquillo e non ho avuto grande difficoltà a trovare alloggiamento negli alberghe che come tu sai gli alberghi sono l'alloggio diciamo pubblico e che quindi richiedono un donativo di circa 6 euro ti devi sicuramente portare il tuo sacco a pelo il tuo sacco a lenzuolo per una questione di igiene però nonostante facesse molto freddo io avevo un sacco a pelo primaverile di quelli proprio piccoli in estivi quindi comunque gli alberghi erano riscaldati e comunque avevano eventualmente la coperta in più io partivo molto presto la mattina diciamo verso le 6 perché ho avuto la fortuna il primissimo giorno di essere in in camera nell'alberghe di Oviedo con questa amica ormai è una cara amica di nome Cilla di Budapest e lei in realtà era tipo la terza quarta volta che faceva il cammino aveva fatto vari sentieri e quindi era preparatissima e allora sapeva lei è proprio molto metodica quindi lei si alzava alle 5 e mezza del mattino alle 6 era pronta tra le 6 le 6 e un quarto si partiva poi a un certo punto ci si fermava a fare colazione quindi io in realtà siccome siamo andate subito molto d'accordo perché poi questa è la magia del cammino che tu incontri gente che non hai mai visto però in qualche modo sei già accomunato da qualcosa quindi abbiamo cominciato insieme ci siamo in realtà fatte tutto quanto il cammino insieme e devo dire lei mi ha regalato questa disciplina molto interessante di alzarsi presto la mattina molto presto quindi di partire alle prime luci dell'alba ripeto non c'era un bisogno eccessivo come può essere magari nel cammino francese perché lì so che insomma il fatto di partire presto è anche legato alle temperature poi diurni che sono 10 e 40 è molto elevato non era proprio così diciamo nel cammino primitivo non è così però è bello effettivamente quando tu camminando nei boschetti nei pascoli vedi proprio la natura che si sveglia quindi gli animaletti la volpe il coniglio una volta abbiamo visto un conciorbiato che passava cioè è proprio bella questa cosa che tu vedi solo nelle prime ore del mattino perché poi durante il giorno quando insomma verso le 9 e le 10 gli animali selvatici non stanno più in giro quindi non li vedi quindi era proprio bella questa cosa della mattina questo ecco ti consente anche di arrivare abbastanza presto tra l'una e le due di solito noi eravamo alla nostra tappa quindi mangiavamo il menù del pellegrino a 10 euro qualsiasi cosa più o meno non ti vedo più Anna-Lisa forse ho parlato troppo ora è tornata ecco ecco in base logorroica quindi ho pensato che forse è riscappata così no sono qua vabbè ovviamente come si chiama quella la tortillas che stava dappertutto buonissima che ho imparato a non mangiare alle 11 nella pausa di metà mattina perché poi non ricominci più a camminare dopo una tortilla questo era il primo giorno Monica invece per quanto riguarda le tappe che hai fatto tu hai seguito all'incirca quelle standard ma c'è la possibilità di allungarle o diminuirle di alberghe si trovano lungo il sentiero o sono solamente nelle tappe obbligate no in linea di massima puoi giocare molto con i chilometri quindi puoi decidere se accorpare due tappe se farne una intermedia non è una cosa così impossibile l'unica cosa effettivamente quando scegli la ruta dello Sospitales lì effettivamente c'è solo quando scavalli la montagna poi scendi lì ce n'è solo uno e poi dopo magari devi camminare altri 20 chilometri prima di raggiungere il prossimo io ho visto gente che l'ha fatto però insomma io non mi sarei sentita di accorpare tutti quei chilometri soprattutto scavallando una montagna prima e invece per quanto riguarda la segnaletica hai avuto difficoltà o è ben tracciato il cammino? il cammino è tracciatissimo e c'è solo questa difficoltà forse ma difficoltà curiosità diciamo che all'inizio quando tu parti da Oviedo la via la direzione è segnata dalla chioma della conchiglia di tenderci così e tu devi andare in questa direzione mentre invece poi per tutto il resto del cammino no? è segnata così a un certo punto cambia non lo so per quale motivo non mi ricordo neanche esattamente da dove ha cambiato però era divertente aspettare il momento in cui la conchiglia si girava allora ci sono le famose freccettine gialle quando non riesci a vedere la conchiglia comunque ci si andrà per tutto oppure se tu proprio ti vuoi perdere sicuramente incontrerai qualcuno o un abitante del luogo che ti chiama perché ti vede con lo zaino e bastoncini e ti dice dove stai andando e ti fa vedere di là sì questa è una cosa bella del cammino che tutti sono pronti ad aiutarti tutti sanno che stai là per compiere quel cammino e quindi veramente ti salutano c'è sempre buenos dias buenos dias sola continuamente ti sorridono buon cammino quindi la segnaletica è quella classica che è azzurra con le frecce gialle o con la concia gialla esatto allora c'è leggo un attimo un commento perché mi ha fatto sorridere c'è Pasquale Di Meglio che dice proprio oggi di due anni fa cominciava il mio cammino primitivo Pasquale non lo sapevamo però è stato il destino che la facessimo oggi questa diretta ah hai visto allora invece Marina Macario ci chiede ci sono molte strade asfaltate quindi poche pochissime infatti il cammino primitivo è abbastanza famoso per questo perché rispetto agli altri cammini è uno proprio dei più selvaggi perché sei molto all'interno della sei molto all'interno della della natura è un po' come il tragitto da Santiago verso Finisterre e poi Muscia che sei un poco nell'alto piano e hai questa queste più o meno pascoli dappertutto quindi ci sono veramente pochissime strade asfaltate ok Amalia vabbè ci chiedeva quanti giorni abbiamo risposto prima 11 o 12 all'incirca Monica invece per quanto riguarda la credenziale tu dove l'hai ripetuta la credenziale già l'abbiamo detto nelle scorse dirette è diciamo una sorta di passaporto del pellegrino sul quale si prendono i timbri delle strutture dove si pernotta ma anche del bar dove ci si firma a fare colazione ad esempio delle chiese che si visitano esatto la credenziale sì è questa è questa carta dove tu prenderai poi i timbri e che fondamentalmente dimostra che tu sei sei un pellegrino anche tu non ce n'è tanto bisogno e ti servirà poi anche per avere la famosa pergamena il pellegrino dopo che ti la compostela allora io che sono originaria di Bergamo quindi sono prima salita però sono partita con l'aereo da Napoli no non è vero sono partita da Bergamo praticamente io andai a Bergamo qualche mese prima di partire e mi procurai la compostela lì anche lì ripeto è molto semplice perché trovi tutti i numeri dei contatti su internet ci sono un sacco di siti che ti mettono in contatto ti risponde qualcuno solitamente della parrocchia non tutte le parrocchie si occupano di distribuire la compostela però ce ne sono veramente scusami la credenziale però ce ne sono sicuramente tantissime quindi non è non è un problema hanno dei giorni in cui come ti dicevo c'è la possibilità di incontrarsi poi con degli altri pellegrini e quindi nel frattempo non è solo la consegna di questa credenziale però è anche un attimo uno scambio con i pellegrini che sono appena tornati che di solito hanno questi occhi che lucicano e non vedono l'ora di ripartire però in realtà se tu non hai il tempo o il modo o come ho fatto io che in realtà me la sono anche dimenticata a casa e quindi ho dovuto rifarmela quando tu arrivi sul posto quindi una volta arrivata a Doviedo io mi sono presa il primo giorno sia per prendere l'alberghe ecco io consiglio di solito gli alberghi non si possono prenotare però viedo sì e quindi io consiglio la prenotazione qualche ora prima perché effettivamente era un po' tutto pieno non è che hai problemi a dormire perché poi ci sono io stalla solo che io stalla sono a pagamento quindi spendi qualcosina di più le alberghe e poi essendo essendo questa cosa di comunità condivise essendo pubblici hanno anche una come dire sono anche più forse nello spirito di un pellegrino molto spartano quindi mi piaceva sta cosa e comunque una volta arrivata a Doviedo mi sono dovuta recare in una delle chiese mi sono dovuta far ridare la compostela perché non ce l'avevo più nonostante fossi riuscita a fermene a dare due in giorni diversi sono rimase tutte e due qua senza tre Monica e invece allora per quanto riguarda il cammino penso che sia stata molto esaustiva se avete domande scrivete nei commenti e siamo felici di rispondervi io invece volevo chiederti qual è la preparazione tecnica che tu avevi se quindi già eri a bezza a cammini lunghi o se era fra le tue prime volte di solito quanti chilometri avevi già fatto prima durante le tue escursioni e i tuoi cammini e qual è l'attrezzatura che hai utilizzato sul cammino ok allora io come ti dicevo proprio all'inizio ho sempre camminato fin da piccolina però erano diversi anni che ero ferma per ero diventata molto più cittadina prima di risentire questa irrequietezza e la necessità di muovermi sono sempre stata abbastanza sportiva comunque però erano anni che non camminavo quindi quando io sono partita avevo la base del trekker urbano quindi è vero che insomma mi muovo a piedi anche a Napoli però non è esattamente come camminare molte ore al giorno quindi sono partita abbastanza diciamo un allenamento medio medio soft l'attrezzatura sicuramente i bastoncini hanno aiutato molto anche se i bastoncini li ho recuperati appunto a Doviedo perché non avendo essendo partita col bagaglio a mano non te li fanno trasportare in aereo quindi assicuratevi se avete i vostri bastoncini non fate come me che ho dovuto far tornare indietro il papà e riconsegnarli così se avete i bastoncini prendete il bagaglio da stiva e imbarcate tutto altrimenti è possibile come fanno molti che acquistano il loco e poi in realtà li lasciano all'alberghe di Santiago infatti gli alberghi di Santiago solitamente sono pieni di questi bastoncini ammassati dappertutto si potrebbe fare un business e le scarpe sono state sicuramente importanti perché io ho sbagliato in realtà perché ho preso delle scarpe da trekking da montagna quindi con la suola più dura la suola carro armato per un percorso così lungo è vero che tutto un altipiano sali e scendi ed è anche vero che non sei sull'asfalto perché sono molti sentieri però non c'era bisogno delle scarpe da trekking e secondo me poi anche confrontandomi con vari pellegrini che ho incontrato sono meglio in realtà le scarpe quelle che poi servono per fare non mi ricordo bene come si chiama trail corsa in montagna esatto corsa in montagna quelle sono sicuramente migliori e mi trovo perché verso la fine mi era venuta una tallonite abbastanza importante perché era dura la suola mentre invece le scarpe da trail hanno una suola rialzata bella e poi sono da corsa in montagna quindi comunque hanno anche un fondo adatto secondo me cioè quando ritornerò a fare il prossimo cammino sarà quella la spesa lo zaino ecco quello ci ho impiegato tipo due settimane per prepararlo perché c'era l'angolino tipo il tavolino della scrivania dedicato alla preparazione dello zaino dove ogni tanto mettevo una cosa ne toglievo un'altra facevo gli abbinamenti pensavo perché poi essendo ti ripeto che era un altipiano la mattina c'erano 13 gradi anche la sera quindi comunque c'avevo il pile e il giubbino e poi tutto un abbigliamento estivo quindi bisognava calibrare bene il peso e il quantitativo degli indumenti e delle cose lo zaino era attorno ai 10 kg ed effettivamente bisogna cercare forse un po' meno 10 kg con l'acqua e il sacco a pelo bisogna cercare di rimanere in un range molto molto contenuto quindi le cose erano veramente poche e le si lavava la sera quando arrivavi nella sera che poi in realtà come dicevo prima noi arrivavamo verso ora di pranzo l'una le due così quindi la prima cosa era lavare gli indumenti metterli a stendere da qualche parte e poi andare a mangiare e la sera solitamente tra la sera e la mattina quindi erano asciutti allora per quanto riguarda la scarpa è sempre molto soggettiva all'esperienza quindi Monica consiglia quella da trail che anche può essere un'occasione tante altre alcuni l'hanno provato con la scarpa da ginnastica si sono trovati male quasi tutti siamo d'accordo che è consigliabile la scarpa da trekking al limite va vista bene qual è la sola in base al periodo ovviamente in un periodo d'agosto in cui fa molto caldo prendere una scarpa molto pesante con una suola molto rigida che si adatta più all'alpinismo che al trekking può non essere una scelta consigliata e allora c'è Corrado che chiede se c'è assistenza sanitaria durante il percorso Corrado essendo in Europa con la tessera sanitaria bisogna portarsi indietro la nostra tessera sanitaria perché con quella si ha l'assistenza gratuita in tutti gli ospedali per tutti gli infortuni che possono derivare dal compiere il cammino di Santiago esatto allora lo zaino che tu hai portato era uno zaino tecnico con un bel maniglione in vita sicuro non era lo zaino di Vikra no no assolutamente lo zaino era uno zaino della Ferrino molto molto leggero con la come si chiama con un sostegno per la schiena per cui che faceva passare l'aria con l'aria la classica rete con la curvatura dello zaino fondamentale perché veramente li sudi e molto molto leggero con le tasche laterali dove era possibile inserire le due bottigline d'acqua e con dei lacci diciamo dove ho potuto agganciare il sacco a pelo che doveva comunque rimanere esterno perché non c'era più spazio all'interno dello zaino però veramente era piccolino ricordiamo che il sacco a pelo è indispensabile ricordiamo veramente indispensabile il sacco a pelo perché in tutti gli alberghi almeno che non si va nelle strutture private sia negli alberghi municipal che nei rifugi donativi trovate solamente il letto o talvolta se si è in tanti non c'è neanche il letto con il materasso ma si dorme sui materassini in terra in alcuni c'è la possibilità di acquistare le lenzuola o se getta al costo di 2-3 euro ma è veramente un peccato invece avendo con sé il sacco a pelo che sia il sacco lenzuolo che sia un sacco estivo dipende dal periodo in cui si fa più il cuscino confiabile con la propria federa si può dormire dovunque e tranquillamente Monica invece per quanto riguarda l'abbigliamento quanti ricambi avevi? allora io avevo i pantaloni quelli della Decathlon molto leggeri quelli che hanno la zip e che puoi togliere rimangono tipo pantaloncini poi avevo un paio di pantaloni che quindi li utilizzavo appunto nella versione lunga o nella versione a tre quarti a seconda della temperatura poi avevo sempre un pantaloncino tecnico piccolo e credo questi due poi mi sono portata un vestitino per la sera da buona signorina da buona signorina un pile qualche magliettina e veramente quelle cose che da buona signorina non dovrei dire però tipo tre paia di mutande tre paia di calzini un reggiseno due canottieni sai quelle cose lì era veramente le cose sì è qualcosa per dormire però era molto molto basico cioè molto poco tipo non so credo che in tutto ho contato che avessi dieci indumenti tra l'estivo e l'invernare quindi compreso il pile e la giacca a silky way chiaramente perché poi ha avuto pure l'impermeabile quindi è stato importante avere sia l'impermeabile sia il coprizzaino perché l'impermeabile non sempre riesce a coprire lo zaino e se piove ti si bagnano tutti i vestiti la sera non è proprio piacevole mentre invece quando tu hai il tuo bel coprizzaino sei tranquillissima allora leggo due commenti se voi li leggiamo insieme c'è Enrico Roberto Carrara che dice ho fatto il cammino francese quello del nord del portoghese ed è stata l'esperienza il cammino in generale è stata l'esperienza di viaggio più bella della mia vita e di mondo ne ho visto Enrico se vuoi sei il benvenuto contattami per parlare del cammino del nord che ci manca finora nelle dirette non abbiamo ancora parlato e poi ci fa i complimenti dice bravissime diffondete la suggestione di partire c'è Domenico De Cristoforo che dice sono d'accordo per le scarpe e io suggerirei da trail leggere soprattutto in estate Gabriele invece Gabriele Giorgio ci saluta dice salve a tutti che nostalgia e dice che lui vabbè il cammino l'ha fatto con le scarpe della sportiva che è una scarpa da trail a maggio del 2019 anche lui senza nessun problema invece c'è Vladimir ciao Vladimir anche ci siamo conosciuti durante un'escursione anche non ti vedo da un po' che ci chiede la crema solare invece ho riscontrato che pure se hai gambe e braccia abbronzate ti bruci lo stesso meglio abiti lunghi o crema solare o entrambi ma gli abiti lunghi a un certo punto morivi quindi io lì ero molto vestita a cipolla come dicevo la mattina partendo molto presto partivo con il con il pile e la maglia manica lunga poi mano a mano arrivavi con il pantaloncino e la la canottierina o la maglietta e sì la crema solare la crema solare però mi ero portata la quella piccolina perché ci sono le versioni le creme solari da viso le vendono piccoline quindi invece che portarmi perché poi anche questo tutto tutto l'aspetto della toilette siccome siamo femminucce però anche per i maschietti si lavano pure loro voglio sperare quindi travasi tutto in contenitori piccolini e calcoli più o meno quanto ti può servire chiaramente io sono stata fuori circa 15 giorni 16 giorni quindi non è che mi sono portata allo shampoo io avevo in realtà io uso uno shampoo secco quindi avevo una saponetta che andava bene sia come shampoo sia come come sapone e quindi ho fatto tutto con uno e già questo compatta un sacco poi la crema solare avevo quella piccolina da viso che comunque va bene anche per il resto del corpo e quindi era piccolina così e non occupava spazio e poi c'era il sapone per i panni che bisogna ricordarsi essere una cosa importante io avevo trovato su vari blog di questa cosa di grattugiare il sapone per i panni perché così risultava più che occupava meno spazio non so ma mi aveva convinto quindi l'ho fatto in realtà non fatelo mai portatevi il pezzo di sapone per i panni e basta perché il sapone grattugiato fa fatichissima a sciogliersi e quindi alla fine non riesci a lavare gli indumenti invece con la tua bella saponetta fai così che sembra una cosa di poco conto però in realtà quando tu hai tre magliette è fondamentale che te la lavi una non è possibile che te la tieni così tre magliette perché una te la metti addosso una è per dormire e una è quella che hai appena lavato e poi si ruotano sì io per esempio personalmente ho acquistato la saponetta di Marsiglia però quella lì naturale che andava bene sia per lavare il corpo che per lavare i vestiti quindi avevo solo quella che pesava tipo centocinquanta grammi e facevo tutto poi per lo shampoo avevo un piccolo contenitore sia per quello che per la maschera e invece per quanto riguarda i vestiti appunto hai detto bene tutti partiamo sempre solo con tre ricambi la sera ti fai la doccia lavi quello che avevi indosso e già ti vesti in realtà con quello che poi userai la mattina dopo per partire di solito e poi uno ce l'hai di ricambio perché ti puoi anche bagnare lungo il cammino esatto esatto Monica vuoi aggiungere qualcos'altro qualche consiglio a chi ci sta ascoltando ma vabbè il consiglio io non sono molto pro guide e quindi la proverei un'esperienza di una partenza senza guida alla mano che non significa partire senza essersi informati ma magari scegliere una modalità più appunto orale per raccogliere le informazioni tranne poi chiaramente quelle più basiche quelle proprio fondamentali del tipo i trasporti da un punto all'altro che ti possono servire però ecco a me è piaciuta questa modalità in cui quando sono arrivato ho cominciato a raccogliere informazioni lì è una modalità un poco più lenta perché richiede che tu ti prendi il tempo di raccogliere delle informazioni elaborarle capire dove devi andare e cosa devi fare mentre invece se c'hai la guida magari te la studi prima raccolte delle informazioni basilari su come prepararti lo zaino sulla temperatura quindi effettivamente il caldo e il freddo per esempio per il primitivo cosa che non credo in un cammino portoghese non ti viene mai di portarti il pile però il cammino primitivo se non hai il pile è un problema e a parte queste cose poi per il resto la scoperta dei luoghi il fatto di poter parlare con la gente con i pellegrini che già ci sono stati che ti consigliano se fare una deviazione se non farla se fermarti a una tappa oppure se magari proseguire questa cosa che ti consente di esplorare di scoprire mano a mano magari ti può lasciare un po' sai è un po' più insicura più nell'incertezza perché se tu hai la guida già sai cosa devi fare se tu ti raccogli le informazioni mano a mano però tutti i cammini sono molto molto sicuri e veramente non ti succede niente le persone sono tranquillissime tutti sono lì con una stessa onda come si dice le persone del posto sono molto ben disposte verso i pellegrini quindi sono veramente si prendono cura di te ecco allora secondo me qualsiasi cammino fai è possibile partire con un poco più di incertezza non è un luogo pericoloso ok allora l'ultima domanda e poi ti lascio andare c'è Corrado che ci chiede quando si dovrebbe partire allora essendo così in alto sicuramente la stagione invernale è sconsigliabile nel senso che è più ardua quindi puoi trovare la neve puoi trovare sicuramente temperature abbastanza rigide della pioggia meglio primavera fino poi settembre-ottobre probabilmente anche novembre però già novembre è un po' freddino ok allora Monica io ti ringrazio molto per aver condivido con noi la tua esperienza e per averci parlato di questo splendido cammino che è uno dei più antichi ma è veramente poco conosciuto ricordo che dicono che sia il primo cammino primitivo non a caso ricordo a tutti che noi con la nostra associazione animerranti organizziamo eventi outdoor tra cui eventi di meditazione proprio con Monica che è la nostra referente responsabile della meditazione quindi li organizziamo un po' in tutta Italia ogni weekend quando non c'è la reclusione siamo outdoor e spero che potremo ritornare presto a rifarlo e quando volete partecipare siete benvenuti Monica io e te ci rivediamo la prossima settimana per parlare proprio appunto di anime erranti di quello che facciamo insieme spiegare bene alle persone come cerchiamo di mettere in contatto le persone fra di loro e poi portarle alla scoperta del territorio e farle meditare e guarire anime e corpo assolutamente grazie Anna Lisa sempre degli spunti che mi dai perché bello grazie a tutti voi ragazzi grazie a tutti di averci seguito noi ci vediamo sabato sempre alle 5 saremo in diretta con Claudio Piani che è un viaggiatore pazzesco ragazzi si è fatto dei viaggi allucinanti a piedi invece di ogni tipo però non parleremo di viaggi ma parleremo di un trekking in Nepal non vi svelo quale sarà una sorpresa seguiteci e ci vediamo sabato alle 5 grazie a tutti ciao grazie